C'è una bellissima canzone della Mango che dice la noia, bisogna risettare, bisogna ripartire, bisogna riseminare. Pensa che è bello per i contadini che hanno la risemina e hanno anche la paura, il timore, come germoglierà il tempo, la luna, l'atmosfera. Noi in fondo abbiamo anche noi tutte queste problematiche che ci seguono perché è un copione mai scritto. C'è sempre detto che sono ben immateriali quelli del calcio come lo sono i film, solo che nei film tu puoi prevedere tutto o quasi tutto perché c'è una sceneggiatura scritta nel calcio. Il campionato non è mai scritto, lo scrivono i calciatori, l'allenatore, la società, i tifosi. E' anche il bello questo. E' il bello ma bisogna saperci abituare e a convivere. Mentre invece sai, quello che è estremamente deludente, cioè io non mi sono mai preoccupato quando sfidando ben 500 film in un anno con i miei film arrivavo secondo. E' meno male, poteva arrivare ventesimo, no? Allora qui nel calcio, ieri a secondo sembra un fesso, ma si è in venti, allora siamo 19 fessi e solo uno, un bravissimo. Voglio dire, tutti devono competere, l'importante è metterci la cazzina. E' contento Presidente di questo ritiro finora dopo sette giorni? Sono sempre. Come lo capisco? Prematuro, esplirante. Ha iniziato una bella risemina che iniziava. Ha iniziato una bella risemina, mi sembrava. Hanno iniziato una bella risemina, mi sembrava.